Lei mi dava conferma. Alidamore numero 11 Chiara Estelio Semeraro. Un giorno un mio cugino mi raccontò che un tale da lui conosciuto occasionalmente a Milano dove egli vive aveva individuato l'unica malattia che lui all'epoca aveva. Rimasi molto impressionato e mi meravigliai del fatto che ci sono ancora tante cose che non riusciamo a capire. Conoscendo mio cugino non ebbi alcun dubbio sulla veridicità di quanto mi stava dicendo e conclusi che doveva essere stata un'esperienza molto interessante. Mai avrei immaginato che a distanza di un anno avrei potuto ripetere e creare in prima persona una simile esperienza. Durante un convegno mi trovavo seduto davanti a una signora alla quale in qualità di sensitivo avevo appena reso possibile un contatto con un suo caro parente. In quel momento sotto ad un gazebo posto all'interno di un grande piazzale allestito appositamente per questi incontri eravamo presenti solo noi due. Faceva un gran caldo e solo qualche rara persona camminava poco distante da noi ma senza evidente intenzione di chiedere nulla. Improvvisamente la signora contenta per la comunicazione medianica da poco conclusa mi guardò con aria curiosa e mi disse Ho letto che in America c'è un signore che come lei ha contatti con i trapassati e riesce anche a vedere il corpo. Potrebbe guardare il mio? Potete immaginare come rimasi di fronte a quella strana proposta. Non comprendendo bene il senso della domanda la pregai di ripeterla perché mi sembrava impossibile ciò che mi stava chiedendo. Essendoci tra noi diversità di sesso si sarebbero potute fare mille illazioni ma visto l'ambiente e la serietà con cui la mia interlocutrice aveva posto la domanda non c'era dubbio che la richiesta era originata da qualche motivo che la preoccupava. Continua Grazie 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 Grazie